Tragedia sul lavoro, operaio 33enne muore alla FAB di Gallo di Petriano. Dopo l'evasione il detenuto algerino catturato a Soria fa scena muta in tribunale. I quattro candidati sindaci di Pesaro a confronto all'hotel Flaminio. Ad Urbino sigillò d'Ateneo alla leggenda del rugby Diego Dominguez. Da Castellitto a Guadagnino grandi ospiti alla sessantesima mostra del cinema di Pesaro. Buona serata, ben ritrovati al nostro telegiornale. Oggi è martedì 28 maggio e apriamo con la cronaca e purtroppo con il terzo infortunio mortale sul lavoro avvenuto nelle Marche da inizio anno. La tragedia questa volta si è consumata nel mobilificio FAB di Gallo di Petriano e la vittima è un giovane padre di appena 33 anni. Simone Mezzolani, operaio di 33 anni, è morto schiacciato da un macchinario industriale mentre ieri sera stava lavorando all'interno della FAB, sito produttivo di Gallo di Petriano dedicato ai componenti del mobile con mezzo secolo d'attività. Il tragico incidente sul lavoro è avvenuto a fine turno serale nel capannone 8 del mobilificio. Immediata l'allerta del personale che ha chiamato i soccorsi del 118, i quali però non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane risultato morto sul colpo. Simone Mezzolani lavorava da diversi anni alla FAB. Era originario di Vallefoglia, abitava da Psella di Montelabate ed era padre di due bambini di 8 e 2 anni. Sul posto sono in corso le indagini di Carabinieri e Ispettorato del Lavoro per chiarire quello che si annota come il terzo incidente mortale sul lavoro nelle Marche da inizio 2024. Tragedie che continuano ad essere inaccettabili per CGL, Cisle e Will con le sigle sindacali oggi presenti al sito produttivo petrianese. Tra l'altro, dall'11 al 14 giugno, Pesaro sarà anche la sede ospitante della terza edizione del Festival Nazionale per la Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro. Scena muta in tribunale questa mattina per il detenuto algerino protagonista di una rocambolesca evasione ieri a Pesaro. Il trentenne recluso nel carcere di Villa Fastigi per tentato omicidio, violenza sessuale e resistenza al pubblico ufficiale ieri ha tentato la fuga dileguandosi nel corso di una visita medica nella struttura sanitaria di via Re di Puglia per poi essere riacciuffato dopo poco più di mezz'ora nella vicina via Lucio Accio nel quartiere di Soria. A catturarlo l'azione congiunta di Carabinieri e Polizia che vi abbiamo mostrato nel telegiornale di ieri. Questa mattina l'uomo, difeso dall'avvocato Giuseppe Briganti, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al PM non fornendo alcuna giustificazione del gesto. Resterà in carcere fino al processo che è stato fissato per l'8 luglio e che è presumibilmente destinato ad aggravare l'attuale pena detentiva che lo stava già recludendo in penitenziario fino al 2029. Ed ora cambiamo argomento. Dopo quasi mezzo secolo fa ritorno al Museo archeologico liveriano di Pesaro un prezioso contornato di traiano in argento. Vale a dire una moneta risalente al primo e secondo secolo dopo Cristo trafugata nel Museo Pesarese nella notte fra il 27 e il 28 febbraio 1978. Si trattò di uno dei furti più ingenti mai subiti da biblioteca e musei liveriani che oggi hanno accolto con enorme soddisfazione la notizia del ritrovamento. Il contornato di traiano è stato individuato da un'indagine dei Carabinieri in una casa d'aste americana di Lancaster vicino a Filadelfia. La moneta ha fatto ritorno in Italia insieme ad altre 600 reperti archeologici ritrovati. Ed ora parliamo di politica perché ieri sera all'hotel Flaminio si è tenuto un confronto fra i quattro candidati a sindaco di Pesaro organizzato da Azione Cattolica. Un'ora e mezza di dibattito sui principali temi elettorali. Vediamo. Lunedì sera all'hotel Flaminio si è tenuto il confronto tra i quattro candidati sindaci di Pesaro organizzato e promosso da Azione Cattolica. Un dibattito che è durato poco più di un'ora e mezza e che ha visto a confronto Andrea Biancani, Marco Lanzi, Fabrizio Oliva e Pia Perricci. Sono stati vari i temi trattati a partire da quello della motivazione che li ha spinti a candidarsi e delle qualità che potrebbero portare con loro in caso di elezione, argomento sul quale i quattro rispondono con le ormai note parole che li accompagnano da qualche mese, chi più chi meno, a questa parte. Seguono poi altre tematiche, tra queste quella che sicuramente scalda più di tutte è quella della sanità, dove da un lato Lanzi attacca il centro-sinistra e la giunta Ceriscioli. Oliva si lascia ad una leggera critica. Per Ricci, invece, ribadisce come l'ospedale unico sia un progetto che non si sarebbe dovuto realizzare in questo modo, quantomeno, ma ormai, essendo inevitabile, che si facciano i giusti ragionamenti. E poi Biancani, che tra alcuni fischi del centro-destra in prima fila risponde per le righe al progetto della regione Marche attuale, tra il rimando di inizio lavoro, spostamento dei reparti e riduzione posti letto. Meno accese le questioni che riguardano i giovani, su cui si dice poco e nulla, e stranamente meno acceso di quanto ci si potesse aspettare anche il clima sul tema dei rifiuti e sullo sport. Animi che però ritornano accesi quando si parla di strutture, infrastrutture e opere pubbliche. Lanzi, Oliva e Pierricci attaccano il centro-sinistra, parlando di incompiute, progetti vaghi o spese eccessive. Biancani risponde con l'elenco delle opere in programma di realizzazione e quelle realizzate. Anche qui, dal centro-destra in prima fila, vola qualche fischio. Alcuni addirittura gli danno dello sciacallo. In conclusione, un dibattito dal quale ci si poteva attendere di più, soprattutto in termini di proposte, ma che ha saputo regalare solo critiche, elenchi e spot elettorali. E vi ricordiamo che i quattro candidati a sindaco di Pesaro si ritroveranno anche sulla nostra emittente televisiva in occasione di una puntata speciale del nostro format Amministrando che andrà in onda martedì 4 giugno, ad una manciata di giorni dalla chiamata alle urne. Dibattiti elettorali che intanto continuano sulla nostra emittente perché dopo il faccia a faccia dei candidati sindaci di Urbino della scorsa settimana, questa sera alle 21.20 saranno i tre candidati di Fano, Luca Serfilippi, Cristian Fanesi e Stefano Marcheggiani, a rispondere alle domande del nostro Antonio Astuti. Ed ora parliamo di sanità. Intervento senza precedenti all'ospedale San Salvatore di Pesaro che nei giorni scorsi ha effettuato un prelievo di cuore arrivato a Udine ancora battente grazie alla speciale apparecchiatura di conservazione degli organi denominata Organ Care System Art. Si tratta di un dispositivo portatile di perfusione cardiaca conosciuto anche come cuore in scatola che rappresenta una delle più significative innovazioni tecnologiche nei trapianti cardiaci permettendo di mantenere il cuore battente fino a otto ore dopo l'espianto. Attraverso il lavoro in sinergia con il blocco operativo di Pesaro e le equip chirurgiche di Udine-Bologna sono stati effettuati prelievi di fegati, corne e cuore su due pazienti di 70 anni e 55 anni che permetteranno di dare una speranza di vita ad altre persone. Ed ora il consueto spazio dedicato alle vostre segnalazioni come sempre l'invito è quello di comunicare con noi attraverso il nostro numero di WhatsApp che vedete in sovrimpressione. Oggi vi proponiamo un caso che ci arriva dal quartiere di Pantano. Vediamo. Dopo cinque anni di battaglie per avere marciapiedi accessibili ed ecorosi i residenti di via Fratelli Bandiera strada che dal quartiere Pantano sfocia al cavalca ferrovia sembravano vedere la luce in fondo al tunnel. Nel 2020 partì infatti una raccolta firme rimasta a lungo e inascoltata fino a fine 2023 quando, dopo le sollecitazioni del consigliere comunale Daniele Malandrino lo stesso consiglio comunale deliberò lo scorso aprile su via Fratelli Bandiera parte del 1.400.000 euro messi a bilancio per le manutenzioni stradali. In questo mese di maggio il cantiere sta costruendo parte di marciapiedi che per i residenti hanno però il beffardo sapore di un lavoro fatto a metà rispetto a quanto pattuito. Recentemente è arrivato un comunicato stampa nel quale dice che via Fratelli Bandiera verrà rifatta interamente. Nello specifico due settimane fa vengono apposti i cartelli a terra dove viene fatto un segno nella strada e viene evidenziato il rifacimento del marciapiede solo per poche case. Noi avevamo ben fatto richiesta dicendo che nella piazzetta Gai ci sono i ragazzi disabili del centro Aias Associazione Italiana Assistenza Spastica ed è esattamente la Casa Leonardo dove purtroppo i ragazzi insieme ai loro accompagnatori per andare al parco Miralfiore devono percorrere per forza la strada quindi porsi in mezzo alla strada perché non è agevole e non è agibile il marciapiede. Quindi ritengo che questa cosa sia veramente spiacevole non solo per le nostre famiglie ma soprattutto per loro e tra l'altro le persone che ci stanno lavorando attualmente hanno detto che i lavori termineranno lì perché il comune non ha più fondi. L'immagine che vi mostriamo ora si riferisce ad un incendio avvenuto nel primo pomeriggio a Sant'Angelo in Bado. A causa di un sospetto cortocircuito una macchina parcheggiata alimentata a gasolio è stata rapidamente avvolta dalle fiamme. La squadra dei Vigili del Fuoco di Macerata Feltria è intervenuta tempestivamente circoscrivendo il rogo. Visita a Pesaro e Fano domani per il Ministro per la disabilità Alessandra Locatelli. Alle 9 il Ministro sarà accolto al Bellavista di Fano dal candidato sindaco di centrodestra Luca Serfilippi per incontrare le realtà locali del terzo settore. Analogo incontro alle ore 11.30 nella sede elettorale pesarese di Marco Lanzi alla quale seguirà la visita istituzionale alla Trattoria Sociale Utopia del Parco Miralfiore. Ad un altro Ministro Adolfo Urso saranno invece affidati i saluti istituzionali di un convegno che si terrà domani all'Hotel Charlie di Pesaro a partire dalle 14.30. Il Ministro delle Imprese Made in Italy aprirà i lavori del convegno Il Nuovo Paradigma 5.0 la finanza agevolata a supporto degli investimenti sostenibili e digitali delle imprese. Si tratta del terzo degli otto appuntamenti promossi da Chorus Partners e Dolittle nell'ambito di Pesaro capitale italiana della cultura 2024. Dallo spettacolo allo sport continuano i conferimenti di sigillo d'Ateneo all'Università d'Urbino. Oggi il riconoscimento è andato ad una leggenda del rugby come Diego Dominguez. A Diego Dominguez leggenda del rugby internazionale viene conferito oggi il sigillo d'Ateneo da parte dell'Università degli Studi di Urbino. È un percorso che sta facendo l'Università degli Studi attraverso dei personaggi che possono dare delle indicazioni sulla vita sulla crescita personale e individuale degli studenti. La domanda è in che modo valori di cui ha parlato l'Alezio Magistralis come l'aggressività come l'agonismo possono essere portati fuori dal campo e diventare valori per la crescita personale. Con l'esempio con l'esempio con l'esempio il rugby l'ho detto oggi il rugby senza crescita non puoi giocare è uno sport che non puoi giocare però devi avere equilibrio non puoi fare eccessi se no viene penalizzato fuori al campo penalizzi la squadra nella vita è uguale è uguale tu commetti tu fai un eccesso di aggressività chi penalizzi è te stesso prima di tutto penalizzi la famiglia che ci sta dietro penalizzi i tuoi amici benessi tutto quindi queste cose bisogna anticiparle bisogna anticiparle bisogna spiegare con l'esempio con i gesti come l'aggressività deve essere usata. abbiamo organizzato questo sigillo dell'Ateneo con l'Università d'Urbino come un momento di riconoscimento ad uno dei più prestigiosi e importanti giocatori di rugby italiani Diego Dominguez che ha anche origini marchigiane ed è uno sportivo di alto livello vicino al nostro club ci ha fatto molto piacere che l'Università abbia raccolto questo invito perché credo che sia importante anche per l'Università avvicinarsi al mondo del rugby soprattutto in uno sport come il rugby che è un po' sottovalutato ma che ancora ha i veri valori dello sport quindi in cui per raggiungere la meta bisogna lavorare sodo bisogna collaborare con i propri colleghi molto più di quanto in avviene in altri sport che sono individuali o in quali spesso anche l'essere la star dà dei vantaggi che forse nel rugby sono meno evidenti quindi ci fa molto piacere che sia venuto a trovarci proprio perché il messaggio che viene dato è un messaggio di valori positivi veramente bello io ci tengo tantissimo questa a questa terra a questa regione sono venuto tantissime volte io sono originario di Matelica la mia famiglia è di là la mia famiglia materna e niente sono tornato tante volte ogni volta che posso torno a Urbino è la prima volta essere in un'università così prestigiosa una delle più antiche d'Italia per me è enorme è veramente è un onore sono 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 contento sono una cosa che mi porterò a vita a questo momento nella mia vita lo porterò fra i momenti più belli che ho avuto oltre che entrare in campo su qualche partito importante o qualche vittoria importante queste sono cose che tu le tocchi con la mano capito è bellissimo dopo aver annunciato la presenza di Franco Maresco Eficarra e Picone la sessantesima mostra internazionale del nuovo cinema di Pesaro diretta da Pedro Armocida ha svelato oggi altri ospiti speciali ad inaugurare il festival venerdì 14 giugno in Piazza del Popolo sarà Sergio Castellitto nel ventennale di uno dei suoi film di maggior successo Non ti muovere il 17 giugno sarà il turno di Jasmine Trinca che presenterà in anteprima italiana Maria Montessori La Nouvelle Femme il 18 giugno ospite speciale sarà invece Valentina Lodovini il 20 giugno Pesaro omaggia un maestro del cinema d'animazione come Enzo Dallò il 22 gran finale dedicato al regista Luca Guadagnino dalla mostra del cinema 20-24 passiamo ad un cortometraggio pesarese presente nella rassegna di un anno fa e poi premiato al festival Tulipani di Seta Nera il film In un attimo tutto può cambiare diretto da Rita Giancola e con protagonista Ivan Cottini sarà proiettato eccezionalmente giovedì 30 maggio al cinema Solaris alla presenza del cast In un attimo tutto può cambiare questo è il titolo del film scritto e diretto da Rita Giancola girato a Pesaro Urbino e che ha ricevuto nel 2023 il premio Sorriso per la disabilità e che sarà proiettato a Pesaro presso il Cinema Solaris il 28 maggio un'opera che si inserisce al fianco dell'Auser per un messaggio chiaro di uguaglianza e di libertà come ci racconta chi ha accompagnato questo film sin dalla sua creazione sono molto felice di avere questa opportunità di portare il film a Pesaro perché è un film che ha vinto in premio Rai Festival Tulipani di Settanera premio Sorriso per la disabilità questo film nasce da un incontro dopo tanti anni con Ivan Cottini che già conoscevo perché quando aveva appena 15 anni ho colto subito il suo talento ed è stato protagonista di un mio spettacolo teatrale ci siamo rivisti dopo tanti anni con l'idea di fare qualcosa assieme io avevo in mente di lavorare appunto sulla disabilità in qualche modo però lui mi propose proprio questa tematica specifica perché aveva conosciuto tanti ragazzi che hanno problematiche non solo di disabilità ma anche di sessualità e in questo caso specifico abbiamo deciso di affrontare la tematica disabilità e omosessualità questa idea mi è piaciuta tantissimo io poi scrivo e sono molto veloce quindi nel giro di pochi giorni ho scritto la sceneggiatura dove naturalmente Ivan è protagonista non ho raccontato la sua storia una storia completamente inventata infatti non si parla della sua malattia ma si parla di un ragazzo che purtroppo resta disabile in seguito a un incidente automobilistico è stato molto emozionante perché le immagini diciamo hanno da sole parlato e sono state in grado di trasmettere qualcosa che si è poi spero riflesso nella musica di questo corto spazio anche per il Solaris e per Hauser che si inseriscono da protagonisti come fossero veri e propri attori dell'opera cinematografica per promuoverne il messaggio ed il contenuto è importante far ascoltare anche la voce di chi è più piccolo di chi è più debole quindi questo corto che parla di disabilità di diversità e quant'altro aveva diritto di entrare in sala con questo evento innanzitutto questa è la terza stagione che noi organizziamo in collaborazione col Cinema Solaris che io ringrazio in primis per averci dato questa possibilità a ritornare al vecchio cineforum che si faceva molti anni fa dove oltre a vedere dei film a tema si discute proprio del film quello che può essere le percezioni che uno ha avuto cosa pensa e quindi io penso che sono quelle situazioni che portano anche a riflettere e abbiamo bisogno di riflettere perché ultimamente si corre troppo e si pensa poco sarà il 30 maggio alle ore 21 ci sarà presente la Rita Giancola che è appunto la regista e Ivan Cottini che è uno dei protagonisti ci sarà anche tutto il resto del cast e sarà alle ore 21 al Cinema Solaris l'entrata sarà a 6 euro il biglietto ridotto perché appunto vogliamo permettere a tanti di poter venire al cinema e venire a godersi di questo evento e concludiamo il nostro telegiornale di questa sera mostrandovi una forma di scoperta del nostro entroterra sempre più apprezzata dai turisti parliamo del viaggio sul treno storico Ancona-Pergola che lo scorso fine settimana si è messo in moto per la prima delle sue 30 corse previste in questo 2024 è tornato a sferragliare tra mare e colline il treno storico della linea subappenninica italica in una iniziativa voluta dall'assessorato alle infrastrutture della regione Marche di Francesco Baldelli giunta alla terza edizione un viaggio nel tempo tra Ancona e Pergola che lo scorso anno ha trasportato migliaia di passeggeri e turisti provenienti non solo da tutta Italia ma anche dall'estero a visitare città borghi paesaggi e musei oltre che a degustare le eccellenze enogastronomiche delle Marche si tratta di un ripristino di tratta ferroviaria antica in un viaggio a bordo di carrozze anni 30 sabato la corsa inaugurale a cui hanno partecipato 300 passeggeri compresi i gruppi dall'Umbria e dall'Abruzzo con visita ai musei della miniera di Zolfo di Cabernardi a Sassoferrato e dei bronzi dorati a Pergola oltre che a degustazioni in treno e soste in alcuni ristoranti la ferrovia su Bappennini Italica ha registrato per la regione Marche un grande successo anche perché ogni corsa di questa ferrovia registra sempre il sold out con almeno 300 persone a bordo su questo treno proveniente da tutta Italia quest'anno abbiamo fatto 30 corse anzi faremo 30 corse abbiamo già prenotazioni dal Trentino dalla Val d'Aosta dal Piemonte che ci fa ben sperare siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale ma restate ancora con noi perché subito dopo questa prima edizione del nostro TG avremo uno speciale dedicato all'open day che c'è stato qualche giorno fa al Conservatorio Rossini un open day molto particolare perché vi permetterà di vedere i tanti corsi che si possono fare nel prestigioso Conservatorio Pesarese e poi questa sera in prima serata 21.20 non perdetevi questo appuntamento perché andremo a conoscere i candidati a Sindaco di Fano Cristian Fanesi Stefano Marcheggiani Luca Serfilippi quindi vi aspettiamo alle 21.20 e invece domani vi aspetto io alle 7.20 con la nostra rassegna stampa non perdete l'appuntamento con la lettura dei quotidiani locali saremo in diretta anche sulla nostra pagina Facebook un tempo un po' pazzarello questi giorni adesso diamo spazio al meteo e io vi auguro una buona serata grazie a tutti grazie a tutti